Sto per avere un bimbo, caro. Sono quasi tre mesi. Non sei preoccupato, vero? Ti prego, ti prego. Non devi preoccuparti. Bene. È tutto a posto? Certo. Ho fatto di tutto, ho preso di tutto, ma non è servito a niente. Non sono preoccupato. Non ho potuto farci niente, caro, e non mi sono preoccupata. Non devi preoccuparti o starci male. Sono preoccupato solo per te. Appunto, è quello che non devi fare. La gente non fa altro che aver bambini. Tutti hanno bambini. È una cosa naturale. Sei magnifica. No, non è vero. Ma non devi pensarci, caro. Cercherò di non darti noia. So che ti ho dato noia adesso, ma non sono stata una brava ragazza finora. Non te ne sei mai accorto, vero? No. Sarà sempre così. Tu devi soltanto non preoccuparti. Lo vedo che sei preoccupato. Smetti, smetti subito. Vuoi bere qualcosa, caro? So che quando bevi diventi sempre allegro. No, sono allegro. E tu sei magnifica. No, non è vero. Ma farò di tutto per stare con te, se sceglierei un posto dove andare. Deve essere bello, in ottobre. Ci divertiremo, caro, e ti scriverò ogni giorno quando sarai al fronte. E tu? Dove sarai? Non so ancora, ma in qualche posto splendido. Poi ci penserò. Restammo un momento zitti senza parlare. Catherine era seduta sul letto e io la guardavo, ma non ci toccammo. Eravamo divisi, come quando entra qualcuno in una stanza e la gente diventa consapevole. Tese la mano e prese la mia. Non sei in collera, vero, caro? No. E non ti senti preso in trappola? Forse un poco, dissi, ma non da te. Non volevo dire da me, non fare lo stupido. Volevo dire in trappola, in genere. Ci si sente sempre presi in trappola, biologicamente. Rimase a lungo senza muoversi e senza spostare la mano. Sempre non è una bella parola. Scusami. Non importa, ma vedi, non ho mai avuto bambini e non ho mai amato nessuna. E ho cercato di essere come tu volevi. E poi tu dici, sempre. Vorrei tagliarmi la lingua. Oh, caro. Ritornò dal mondo dove era stata. Non devi badarmi. Eravamo di nuovo insieme. E la consapevolezza era scomparsa. Siamo davvero la stessa cosa e non dobbiamo fraintenderci di proposito. Non lo faremo. La gente lo fa. Si amano e si fraintendono di proposito e bisticciano. E poi, d'improvviso, non sono la stessa cosa. Noi non bisticceremo. Non dobbiamo farlo. Perché ci siamo solo noi due. E nel mondo ci sono tutti gli altri. Se succede qualcosa fra noi, siamo finiti e vincono gli altri. Non vinceranno, dissi. Perché tu sei coraggiosa. Non capita mai niente ai coraggiosi. Muoiono, naturalmente. Ma una volta sola. Non lo so. Chi lo ha detto? Il codardo muore mille morti. Il coraggioso una morte sola. Sì. Chi lo ha detto? Non lo so. Probabilmente era un vigliacco, disse. Sapeva molte cose, sui vigliacchi. Ma non sapeva niente, sui coraggiosi. Un coraggioso muore magari duemila morti, se è intelligente. Si limita a non parlarne. Non lo so. È difficile vedere nella testa dei coraggiosi. Sì, è per questo che continuano a esserlo. Tu fai testo. Hai ragione, caro. Me lo sono meritata. Tu sei coraggiosa. No, disse. Ma vorrei esserlo.